L'esuberante città di Dublino, e non saranno solo le luci di Temple Bar ad incantarti. C'è la vitalità del mercato di Caos Lane. Qui troverai persone amichevoli sul serio, che offrono di tutto, dai gioielli agli accessori artigianali e anche gustosi prodotti locali. Troverai bar, caffè e piccole boutique, e anche se sono tutti a pochi passi, non ti mancherà l'opportunità di fermarti e goderti una pausa. Perché nel bel mezzo del trambusto potrai entrare in un'oasi di relax. Magari troverai tranquilli giardinetti fra il castello di Dublino e la biblioteca di Chester Beatty. E in caso non lo sapessi già, Dublino si affaccia sul mare. Nel villaggio di pescatori di Ouf troverai molto più del pesce fresco e ancora tanti simpatici dublinesi sempre pronti ad accoglierti. E dopo tutto questo, ti potrai ritemprare mangiando e bevendo in buona compagnia. Irlanda. Senti il battito.